ultima edizione del nostro telegiornale buonasera ben ritrovati con la nostra informazione accordo raggiunto per la radioterapia al gemelli molise dopo il vertice che si è tenuto oggi tra la struttura commissariale la regione la direzione generale della salute giovanni di tota una schiarita improvvisa quella tra la regione il gemelli dopo settimane di muro contro muro e di reciproci scambi di accuse sul futuro della radioterapia nella struttura di tappino in un comunicato di poche righe diffuso proprio dall'istituto gemelli è stato annunciato l'accordo tra il commissario alla sanità e i vertici della clinica privata convenzionata al termine di un incontro fortemente voluto dalla struttura commissariale con il gemelli e la direzione generale per la salute si legge nella nota si è trovato un punto d'intesa che consentirà a breve la riapertura della radioterapia e la piena funzionalità di tutti i reparti dell'ospedale così il presidente della regione toma in realtà io avevo invitato la direzione generale della salute e gemelli molise a confrontarsi sui pagamenti che gemelli riteneva dovuti e non erogati si sono confrontati mi è stato comunicato che hanno trovato una composizione su alcune cifre è un atto gestionale noi ne prendiamo atto e va bene così per quanto riguarda invece più specificamente il nomenclatore da applicare alla radioterapia io ho costituito un gruppo di lavoro misto gemelli asrem che porti ad un risultato cioè il costo secco della radioterapia in gemelli e il costo che noi paghiamo in mobilità passiva ai pazienti che vanno fuori regione quel lavoro dovrebbe portare alla realizzazione di un pacchetto omnicomprensivo dei dei service si dice tecnicamente che ci consentirà di proporre una variazione al tavolo tecnico una variazione del nomenclatore quindi del costo al tavolo tecnico è chiaro che è una proposta se il tavolo tecnico la validerà allora anche le prestazioni del gemelli potranno essere remunerate in maniera diversa se non la dovesse validare dovremmo tornare al nomenclatore precedente il gemelli molise conclude la nota intende ringraziare la struttura commissariale la direzione generale per la salute per la disponibilità dimostrata ora la parola fine su questa tormentata vicenda la dirà il famigerato tavolo tecnico a roma e proprio questa mattina il comitato salviamo la radioterapia aveva presentato nel corso di una conferenza stampa il risultato della raccolta di firme per mantenere in vita il reparto del gemelli sentiamo cosa hanno detto gli organizzatori della petizione alla quale hanno aderito oltre 10.000 persone enzo luogo il comitato è nato dalla volontà spontanea di un gruppo di pazienti della radioterapia del gemelli molise in pochi giorni la petizione avviata anche attraverso banchetti in diversi centri della regione ha consentito di raccogliere oltre 13.000 firme ora sono tutte qui in questi plichi che nelle prossime ore saranno consegnate al ministro della salute orazio schillaci a lui viene chiesta l'immediata riapertura della radioterapia al gemelli molise e la revoca dei decreti varati nelle settimane scorse dal commissario sulle cure ai malati di tumore i medici del gemelli affermano dal comitato devono poter tornare a prescrivere direttamente le cure senza dover passare per l'autorizzazione del cardarelli in una conferenza stampa tenuta proprio nel centro di tappino sono stati presentati i primi risultati della mobilitazione popolare abbiamo raccolto grandissima solidarietà perché il cittadino sa che questo è un centro che cura e che cura in maniera efficace bastano a volte tre sedute di radioterapia per diciamo ridurre un cancro in maniera significativa e chi ha avuto esperienze in famiglia chi ha conoscenti amici queste cose le sa e le vive e quindi il riscontro che abbiamo avuto dei cittadini è stato veramente positivo nei vari interventi i promotori del comitato hanno riferito anche dei disagi e delle preoccupazioni dei pazienti e della rilevanza della radioterapia del gemelli molise nell'attuale sistema sanitario in assenza di reali alternative che non compromettano i diritti dei malati noi pazienti alla radioterapia dobbiamo la vita e questo non può essere dimenticato ma allo stesso tempo anche i nostri familiari le persone che ci sono vicine sanno quello che si vive quando si ha a che fare con una malattia oncologica e questo non può essere diciamo trascurato come aspetto e in termini economici ma soprattutto in termini di qualità della vita che noi affrontiamo tutti i giorni restiamo in tema sanità gli operatori sociosanitari del molise si riuniranno a disernia per l'assemblea costituente del coordinamento regionale di lotta promosso da emilio izzo durante l'incontro ha spiegato izzo parleremo dei problemi di tutti gli operatori utilizzati durante la pandemia e poi scaricati da una politica inconcludente inoltre ha aggiunto presentiremo presenteremo le iniziative di lotta che organizzeremo nei prossimi giorni l'assemblea si svolgerà domani pomeriggio dalle 17 e 30 nella biblioteca romano parliamo ora di edilizia scolastica montano a 936 milioni di euro le risorse del pnrr per 399 interventi richiesti dalle regioni al molise vanno 6 milioni e mezzo per 5 scuole sentiamo tonino danese circa 6 milioni e mezzo di euro di risorse del pnrr per 5 scuole molisane di isernia termoli ielsi e pesche finanziamenti che verranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione adeguamento sismico ed efficientamento energetico rientrano nei 936 milioni di euro del piano nazionale di ripresa e resilienza 399 i lavori di edilizia scolastica richiesti dalle regioni che comuni e province potranno immediatamente attuare il 40 per cento dei finanziamenti è stato riservato al mezzogiorno il ministero dell'istruzione del merito ha pubblicato l'elenco degli interventi individuati nei piani presentati dalle regioni entro il 17 febbraio i comuni e le province possono avviare dunque subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l'appalto dei lavori con un altro decreto verranno autorizzati altri interventi utilizzando i residui della programmazione dei 6 milioni e mezzo di euro previsti per il molise 3 milioni e 700 mila euro saranno utilizzati per la secondaria di primo grado giovanni ventitresimo di isernia un milione e 100 mila euro per la scuola dell'infanzia e primaria dell'istituto comprensivo bernacchia di termoli è sempre nella città adriatica ma alla scuola per l'infanzia dell'istituto comprensivo schweizer andranno 360 mila euro 700 mila euro saranno destinati alla primaria e secondaria di primo grado di ielsi e oltre 500 13 mila euro alla scuola dell'infanzia e primaria di pesche e dall'edilizia scolastica al trasporto pubblico locale il movimento 5 stelle ha depositato una proposta di legge regionale primo firmatario angelo primiani che prevede la costituzione di una società in house con la regione obiettivo migliorare il servizio e al tempo stesso garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti anna maria di matteo i problemi che affliggono da sempre il settore del trasporto pubblico locale vanno affrontati in maniera definitiva grazie alla costituzione di una società in house la pensano così consiglieri regionali del movimento 5 stelle che hanno depositato una proposta di legge che vede come primo firmatario angelo primiani avviare il percorso per la costituzione di un soggetto che sicuri efficienza efficacia economicità rispetto all'attuale situazione fondamentale per la crescita e lo sviluppo del molise ha spiegato primiani è noto come i tentativi di affidare in concessione il servizio a società private da parte della regione siano stati puntualmente bocciati dalla giustizia amministrativa il consigliere 5 stelle ha infatti ricordato come la sentenza del tar dell'otto febbraio scorso abbia rimarcato l'illegittimità dei bandi inoltre ha proseguito l'esternalizzazione del trasporto locale molise non ha avuto effetti positivi sulla razionalizzazione della spesa pubblica ne ha determinato una responsabilizzazione economica e gestionale delle aziende contrariamente si è assistita ad un mancato adeguamento dell'offerta ai bisogni dei cittadini e in condizioni più grave il mancato pagamento degli stipendi al personale assunto dalle società private problema quest'ultimo che ha avuto ripercussioni sul bilancio regionale siamo al termine dell'ennesima legislatura regionale ma i problemi del trasporto pubblico locale restano irrisolti e dal 2011 ormai che il trasporto pubblico locale in molise versa in condizioni pietose con lavoratori non pagati o pagati in ritardo pendolari che soffrono servizi inefficienti a partire dalla qualità degli autobus tutto questo non è più accettabile ormai è evidente che in questa regione il livello del contenzioso tra concessionari e amministrazione regionale non permette di arrivare all'affidamento attraverso gara per questo l'unica soluzione se si vuole realmente risolvere il problema è quella che propone il movimento 5 stelle ovvero la creazione di una società regionale a cui affidare l'intero servizio del trasporto pubblico locale esistono già realtà simili in altre regioni di italia mi riferisco all'abruzzo con la tua o anche come gli esempi del lazio o della campagna esattamente questo è il percorso che va immaginato in molise per mettere in sicurezza i lavoratori ma soprattutto per fornire servizi efficienti e autobus di qualità a tutti i pendolari che quotidianamente utilizzano gli autobus è massimo dirrisio fondatore presidente del gruppo dr automobiles il personaggio dell'anno 2023 per forum automotive il riconoscimento annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento del 21 marzo a milano viene assegnato dal movimento di opinione sui temi della mobilità e del settore automotive alla personalità che nel corso dell'anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a beneficio della mobilità del suo complesso con possibili ricadute positive sul sistema italia andiamo a venafro il valore di particelle pericolose nell'aria il cosiddetto particolato pm 10 ha già superato la soglia massima annuale consentita e questo il dato che emerge dalle rilevazioni raccolte grazie alle centraline installate da partecipazione democratica e dall'associazione meteo in molise enrico de simone polveri sottili nell'aria preoccupano i dati registrati dalle centraline installate a venafro grazie a un'iniziativa di partecipazione democratica e dell'associazione meteo in molise questa mattina nella palazzina liberty è stato presentato il rapporto dell'ultimo trimestre rilevazioni partite dal 20 dicembre scorso a gennaio la centralina di via campania ha registrato sforamenti della soglia massima consentita di particolato pm 10 per 14 giorni su 31 situazione che non è migliorata a febbraio mese in cui i valori limite sono stati superati per 16 giorni su 28 il dato più allarmante è quello sottolineato dal meteorologo gianfranco spensieri gli sforamenti registrati sono già oltre la soglia annuale consentita dalle normative dati che emergono sono dati difficilmente gestibili nel senso che sono valori ampiamente sopra la norma sia nel pm 10 che nel pm 2.5 in modo particolare il pm 10 che ha già superato il limite annuale vale la pena tuttavia giova ricordare che si tratta di analisi che arrivano dal 20 dicembre quindi ad oggi praticamente abbiamo analizzato la totalità di circa 60 barra 70 giorni complessivi e abbiamo 41 barra 42 giorni che hanno già superato la media rispetto ai 35 previsti dalla normativa capirete bene insomma che il valore è particolarmente rilevante e importante soprattutto in un'ottica poi di quello che sarà ancora il 2023 il picco massimo di polveri sottili a venafro si è registrato il primo gennaio tra la mezzanotte e luna i picchi massimi sono stati registrati praticamente il primo giorno dell'anno e questo è un dato che abbiamo profondamente analizzato sia nel pm 10 che nel pm 2.5 e abbiamo anche ricondotto questo picco massimo a quella poi classica esplosione di botti che si fa caratteristica dell'inizio dell'anno nuovo in quella circostanza abbiamo addirittura raggiunto valori intorno ai 740 750 valori tipici praticamente delle città di milano e di napoli e intanto il presidente di partecipazione democratica stefano buono ha puntato il dito contro la latitanza della politica nella gestione della questione inquinamento io penso che chi ha amministrato questo luogo dal comune alla regione negli ultimi decenni ha sbagliato a programmare perché la vocazione di questo territorio era un'altra un territorio pieno di acque sorgive del verde dei paesaggi dei borghi e quindi non dovevano fare in modo che diventasse un contesto nel quale i fattori inquinanti e impattanti hanno la meglio detto questo noi lavoreremo per ampliare questo progetto e per configurare anche una proposta politica che tenga conto di queste cose a partire dalle prossime comunali e a partire dalle prossime regionali fabio iannucci noto attivista di venafro vicino ad italia viva abbandonato il movimento politico di laboratorio 86 079 si tratta di una decisione irrevocabile ha detto la motivazione principale è che il movimento ha preso una strada diversa da quella che aveva intenzione di percorrere non mi è piaciuta ha aggiunto iannucci la mancanza di chiarezza sulla modalità di scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali il progetto politico ha concluso è stato tolto dalle mani di chi lo ha ideato l'associazione ex consiglieri regionali in conferenza stampa a campo basso nel parlamentino della vecchia giunta ha fatto il punto sulla politica molisana in vista delle elezioni di fine giugno chi governerà dovrà dare dovrà dotare il molise di un nuovo piano di sviluppo regionale hanno detto sentiamo riprendere la sostenibile praticabile via molisana lo sviluppo e prosperità uno slogan condiviso e rilanciato ai cittadini da chi in consiglio regionale c'è stato e anche visto nascere la regione ha contribuito fattivamente alla sua nascita in conferenza stampa esponenti dell'associazione ex consiglieri regionali hanno voluto dire la propria in vista dell'imminente campagna elettorale che porterà alle elezioni regionali di fine giugno storici esponenti della politica regionale come enrico santoro che fu presidente mario verrecchia e il vertice dell'associazione gaspero di lisa con loro italo di sabato e l'attuale vicepresidente del consiglio gianluca cefaratti tutti hanno ribadito l'esigenza di dotare il molise di un nuovo piano di sviluppo regionale qui in regione si naviga a vista non c'è una programmazione non c'è un piano regionale di sviluppo che è punto di partenza per qualsiasi amministrazione deve sapere dove andare come fare e quali sono le azioni da 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 compiere in previsione di una finalità conosciuta oggi abbiamo purtroppo un distacco forte e netto da larghi settori della società verso la politica questo è dovuto anche a delle leggi elettorali ademocratiche che di fatto costringono migliaia di cittadini anche di molisani a non recarsi alle urne riprodurre un sistema democratico significa produrre anche un sistema orizzontale di partecipazione reale da parte dalle amministrazioni locali alle associazioni e ai cittadini stessi affinché si possa arrivare a un piano di sviluppo regionale condiviso e partecipato il faro della gire politico deve essere la costituzione e il reale concetto di partecipazione del popolo alle decisioni hanno ribadito la necessità che poi queste cose siano percepite volute dal popolo il quale poi si deve impegnare a realizzarle perché noi cominciamo a mancare delle risorse territoriali ma non dell'ambiente ma proprio umane sanità viabilità lavoro non siano solo proclami e spot elettorali hanno sottolineato gli ex consiglieri regionali che hanno lanciato un forte appello a partiti candidati elettori sindacati movimenti associazioni significative le parole di enrico santoro ha bisogno di gente che crede nelle iniziative che crede che il molise può ancora crescere che crede nella possibilità di riprendere quel cammino che avevamo iniziato però per fare questo ci vuole dedizione conoscenza capacità di essere portatori di alcune iniziative ai livelli centrali il molise non si sviluppa stando e lavorando nel molise serve una valutazione rigorosa dei rischi che corrono le aziende agricole a causa dei cambiamenti climatici in atto e questo per offrire agli imprenditori agricoli una copertura assicurativa mirata ed efficace in caso di calamità naturali lo ha detto albano agabiti presidente di asnacodi italia associazione nazionale dei confidesa che svolge compiti di coordinamento rappresentanza e tutela dei 66 consorsi di difesa associati operanti nel settore della prevenzione e gestione dei rischi di imprese in agricoltura le aziende agricole molisani ha spiegato andrea berti direttore asnacodi si assicurano poco in base ai rischi ai potenziali danni che potrebbero subire a causa dei cambiamenti climatici in atto e ciò nonostante un rischio da calamità più alto in termini percentuali della media nazionale l'istituto omnicomprensivo di guglionesi porterà il nome di giulio rivera l'agente di polizia ucciso nella strage di via fani 45 anni fa oggi nel cimitero del paese basso molisano la commemorazione non è mancata la commozione il prossimo 5 aprile si terrà la cerimonia di intitolazione della scuola andrea nasilio guglionesi non dimentica quella strage non dimentica il proprio figlio giulio rivera l'agente di polizia ucciso 45 anni fa in via fani a roma era il 16 marzo 1978 quel giorno le brigate rosse nell'agguato per il rapimento del presidente della democrazia cristiana al domoro trucidarono tutti e cinque gli uomini della sua scorta insieme a giulio rivera che aveva 24 anni persero la vita oreste leonardi domenico ricci raffaele iozzino e francesco zizi oggi al cimitero di guglionesi la commemorazione ancora una volta profonda emozione una corona dall'oro deposta sulla tomba dove riposa giulio rivera la sua famiglia che vive nel paese basso molisano ricorda la lealtà e la bontà di un uomo coraggioso è un grande ricordo una memoria che non dimentichiamo mai che almeno c'è un ricordo per sempre anche per i nuovi giovani che arrivano adesso che così sanno la storia di giulio rivera non lo ricordo direttamente perché sono nato dopo cinque giorni però ricordo i miei familiari che ne parlavano sempre di questo zio che ha indossato la divisa e ha onorato il nostro paese infatti il suo sacrificio è valso a darci un paese migliore pieno di democrazia di pace di libertà e uguaglianza guglionesi vuole dare il suo sigillo il prossimo 5 aprile l'intitolazione dell'istituto omnicomprensivo a giulio rivera va tenuto alto come ha detto il sindaco mario bellotti il valore della memoria ci siamo fatti portavoce in tutti e a tutti in tutti i luoghi deputati affinché avvenisse ciò avvenisse che un segno tangibile di ricordo di giulio fosse quello di appunto di intitolare l'intero omnicomprensivo io abitavo a poche decine di metri dalla sua abitazione il giorno del suo funerale ero lì sulla finestra avevo 13 anni quindi ricordo un fiume di persone che che aspettava il ferretro di giulio e questo è il ricordo da bambino poi il ricordo più di aver conosciuto una famiglia la famiglia rivera che veramente con tanta dignità porta avanti il ricordo di una persona straordinaria che per me in questi cinque anni di mandato è stato un po un punto di riferimento un esempio da seguire un valore da trasmettere in tutti i modi alle giovani generazioni che non hanno conosciuto quel periodo ma che ripeto ogni volta se vivono in un paese democratico e di pace e anche grazie al sacrificio di giulio ancora ladri in azione a disernia nel mirino è finito il supermercato tigre di via sant'ippolito il direttore questa mattina ha trovato una delle vetrine del locale danneggiata ma fortunatamente i ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione disernia che hanno avviato le indagini preziosi in tal senso potrebbero essere filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e intanto i carabinieri di monteroduni hanno trovato un auto una bmw del valore di 80 mila euro che risulta rubata due mesi fa ad avellino da un concessionario al suo interno l'arma ha rinvenuto attrezzi da scasso e i carabinieri del comando provinciale disernia hanno sventato diverse truffe nelle ultime ore tra queste il caso di un malvivente che aveva telefonato ad un anziana di oltre 90 anni chiedendo un ingente somma di denaro per il rilascio del nipote arrestato dopo un fantomatico incidente stradale per fortuna nessuna delle vittime caduta nell'inganno dei truffatori intanto i carabinieri raccomandano la massima prudenza invitano i cittadini a segnalare eventuali movimenti sospetti al 118 successo per il career festival a disernia è stato presentato questa mattina in conferenza stampa l'ultimo appuntamento in programma sabato prossimo dedicato alle opportunità lavorative per i giovani studenti valeria migliore fermare la fuga di cervelli di talenti e di giovani diplomati con tale obiettivo la fiera delle carriere a esernia ha voluto presentare ai liceali il mondo del lavoro e le opportunità che il territorio in cui vivono può offrire in particolare lo sguardo è rivolto alle nuove carriere nell'ambito del turismo del made in italy e dei social media durante l'ultimo appuntamento in programma sabato i giovani studenti potranno portare i propri curricula e presentarsi agli imprenditori locali ci sarà una vera e propria fiera all'interno della quale una circa una trentina di imprese molisane parleranno a ragazzi e ragazze del proprio lavoro e raccoglieranno curricula per coloro che vogliono iniziare un'esperienza lavorativa subito finito la scuola superiore quindi l'invito è armatevi di curriculum e non abbiate paura di affrontare di conoscere il mondo del lavoro perché c'è una grande richiesta ed è il momento appunto di far incontrare chi ha bisogno di lavorare con chi invece cerca dall'altro lato un modo per convincere i ragazzi dell'opportunità di emergere anche nella terra d'origine senza dover necessariamente cercare il proprio posto fuori regione è importantissimo scoprire anche le eccellenze che ci sono sul territorio importantissimo che questi ragazzi sappiano che possono rimanere molise possono lavorare qui possono anche diventare loro stessi delle eccellenze e bisogna combattere in tutti i modi lo spopolamento di questa regione il trend che hanno questi giovani di tutto il meridione anche del molise di andarsene fuori di andare all'estero noi la chiamiamo la fuga dei cervelli ma non solo è anche la fuga delle intelligenze delle braccia della creatività noi dobbiamo fare di tutto perché questi ragazzi restino qui dando il meglio di loro e aiutando il territorio sono stati presentati nella sede della regione molise a roma i libri suoni dal molise terra di campane e zampogne di maria stella rossi e gioconda marinelli e un uomo da bene sempre di gioconda marinelli con la prefazione di dacia maraini sentiamo è stato vito gamberale una delle personalità più autorevoli della regione a raccontare i ricordi della sua infanzia ad agnone rievocando tra l'altro uno storico incendio del 1950 a roma sono stati presentati nella sede della regione molise i libri suoni dal molise terra di campane e di zampogne di maria stella rossi e gioconda marinelli e un uomo da bene di gioconda marinelli con la prefazione di dacia maraini all'iniziativa realizzata in collaborazione con forche caudine lo storico circolo dell'emigrazione molisana ha partecipato l'assessore al turismo e alla cultura vincenzo cotugno il giornalista giampiero castellotti nella sua introduzione ha ribadito la centralità della cultura nella promozione territoriale castellotti ha inoltre sollecitato i vertici regionali a sfruttare con maggiore assiduità le competenze e le istanze della comunità molisana a roma il manager vito gamberale prima amministratore delegato di telecom itali e poi di autostrade ha inoltre evidenziato gli stretti rapporti con la famiglia marinelli ricordando le figure di ettore e pasquale senior e proprio il figlio di ettore pasquale marinelli ha raccontato i segreti dell'arte campanaria tra sacrifici e soddisfazioni emblema da sempre di un'intera regione gioconda marinelli ha quindi letto l'introduzione al suo libro scritta da da ciamaraini assente all'evento perché all'estero maria stella rossi ha introdotto la seconda parte della serata illustrando la storia della zampogna che se in italia è purtroppo per lo più associata all'attività pastorale all'estero gode di maggiori onori ad iniziare dal regno unito e dalla spagna la chiusura dell'incontro è stata accompagnata dalle note di giuseppe spedino moffa l'evento è stato moderato da gabriella marinelli altra componente della storica famiglia agnonese tra i presenti anche sebastiano di rienzo numero uno dei sarti di capracotta che operano a roma e lucio sepede che dopo una vita da imprenditore del settore informatico ha voluto omaggiare il molise avviando una grande realtà agricola e zootecnica nella sua busso la serata ha avuto una grande eco sulla stampa nazionale garantendo al molise visibilità per due eccellenze locali la produzione di campane e di zampogne sarà franco valente a illustrare la parte le particolarità della chiesa di sant' antonio abate di campo basso nel corso di un incontro promosso proprio in uno dei luoghi più antichi di culto della città l'appuntamento è per le 11 di sabato mattina proprio nella chiesa alle porte del borgo l'evento patrocinato dal comune organizzato dalla società italiana protezione beni culturali questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci preferito a tutti voi una cordiale buonanotte